www.feyyaz.tv Tavolo tecnico a Roma, sulla ferriera, l'assessore Scocci Marro conferma, strada ben avviata, a breve un incontro con Arvedi. Ripresa tra le polemiche in regione sul referendum elettorale, il PD, l'aula non è il prato di Pontida, la Lega basta con gli inciuci e il Veneto intanto approva. Mozione dei gruppi d'opposizione in comune, votate in aula all'unanimità sulle nuove tariffe dell'acqua, chiesti provvedimenti per utenze domestiche e no. Oggi in comune commissione sul futuro di acqua marina, l'assessore Grilli, l'impegno c'è ma i tempi per una soluzione non saranno brevi. Presentata la Barcolana 51 dopo il record mondiale di iscritti raggiunto l'anno scorso, si punta alla qualità, tornano la nave Vespucci e i temi ambientali. Buonasera dal telegiornale di Telequattro, un video pubblicato su Facebook dal vice sindaco di Trieste Paolo Polidori mostra nuovamente altri 40, una quarantina di migranti rintracciati dalla polizia davanti al centro commerciale Montedoro a Muggia. Polidori sempre via social, attacca, PD e 5 Stelle. Sentiamo e vediamo il servizio di Bernardo Gulotta. Il video amatoriale girato davanti al centro commerciale Montedoro nel comune di Muggia non è che l'ennesimo riprodotto e poi pubblicato sui social network a testimonianza dell'enorme flusso di persone in transito in arrivo in città dalla rotta balcanica. 40 questa mattina quelli identificati, mentre proseguivano a piedi a gruppetti proprio davanti allo shopping center. Il video in questione è apparso sulla pagina Facebook del vice sindaco Polidori e girato dal passeggero dell'auto. Polidori nel rendere pubblico il video ha anche rilasciato un commento che attacca PD e 5 Stelle nonché il presidente del Consiglio Conte per la politica europea sottoscritta recentemente. La polizia sul posto e i ragazzi a piedi diluiti lungo la strada non sono altro che la conferma di ciò che accade ormai da moltissimo tempo. Situazione accentuata nei mesi estivi quando temperature più alte e bel tempo hanno favorito la marcia lungo i Balcani. Ciò che viene sempre ripetuto è che per ogni video o segnalazione fatta e portata alla pubblica attenzione ve ne sono molte altre sommerse, non viste o non pubblicate che alternano di fatto i numeri reali degli arrivi in città. Oggi una quarantina ma forse anche un centinaio se consideriamo proprio chi potrebbe essere passato altrove senza essere intercettato. Il lavoro di donne e uomini delle forze dell'ordine è oberato da episodi simili. La politica locale ha avviato una stretta attraverso maggiori controlli e accordi con i paesi confinanti. I risultati si potranno trarre nel medio e lungo periodo. Intanto restano episodi come quello odierno, ormai all'ordine del giorno. Ancora cronaca, è scattato subito l'allarme questa mattina lungo l'autostrada 34 nel tratto tra Villesse e Gradisca di Sonzo. Dopo che un'auto ha prima rallentato la propria marcia poi si è fermata in mezzo alla strada. L'insolito evento è stato segnalato alla polizia stradale che assieme al 118 e al personale di Autovie Venete ha raggiunto il veicolo per verificare l'accaduto. Gli agenti della polstrada hanno sfondato il finestrino del veicolo per cercare di soccorrere l'automobilista assieme all'aiuto dei sanitari. Purtroppo però tutti i tentativi di rianimare l'uomo sono stati vani. Nel tratto interessato, ha informato Autovie Venete, non si sono verificati eccessivi rallentamenti e code. Furto ed estorsione ai danni di un cittadino triestino intimato di consegnare del denaro per riavere il suo scooter sotto la minaccia di vederlo bruciare. È successo in città, ce ne parla Bernardo Gulotta. Rubono uno scooter, telefonano al proprietario e gli intimano di consegnare l'oro del denaro, pena l'incendio del veicolo. Un'estorsione vera e propria messa in atto da due cittadini stranieri ai danni di un motociclista residente in città. Tutto nasce dalla presa di coscienza da parte di un cittadino che il proprio Yamaha T-Max era stato rubato in zona via le 20 settembre. Da qui la segnalazione alla polizia locale e il racconto della telefonata ricevuta da un'utenza albanese con l'interlocutore che ha richiesto del denaro in cambio della restituzione del veicolo e a riprova che lo scooter fosse effettivamente in possesso dell'uomo è stata inviata dal proprietario una foto delle chiavi del mezzo e le istruzioni da seguire per il pagamento che se non fosse pervenuto avrebbe comportato l'incendio del motociclo. E così ha fatto il cittadino presentandosi stamane in zona San Giusto dove ha consegnato il denaro a un complice dell'interlocutore il quale subito dopo gli ha restituito le chiavi del T-Max indicandogli il luogo dove lo stesso era stato parcheggiato. Ma non è tutto. Qualche ora dopo il proprietario del veicolo ha riconosciuto in zona viale il 20 settembre l'individuo a cui aveva consegnato il denaro mentre camminava in compagnia di altri tre soggetti. Da qui la segnalazione alla polizia locale la quale è intervenuta tempestivamente per blocare tre dei soggetti all'altezza del Politeama Rossetti. Il quarto individuo, ovvero l'uomo che aveva ricevuto il denaro e che prima dell'arrivo degli operatori si era separato dal gruppo è stato individuato qualche minuto dopo in Piazza Goldoni. Ricostruita l'esatta dinamica degli eventi un minorenne e un cittadino kosovaro di 19 anni sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per i reati di ricettazione e concorso in estorsione. Ancora un incidente che si è verificato intorno alle 4 e mezza di oggi sulla Provinciale 1 in località Padriciano. La strada, si legge nel canale Telegram del Comune, è stata chiusa al traffico. Un Alfa Romeo con alla guida una donna di 51 anni stava procedendo verso Basovizza quando nell'affrontare una curva a destra ha perso il controllo terminando la corsa contro un muretto. La donna è fortunatamente rimasta illesa mentre l'auto è andata completamente distrutta. Poi la strada è stata riaperta intorno alle 18 e 30. Incontro tecnico a Roma nella mattinata odierna sul tema ferriera. Regione Comune e Autorità Portuale hanno preso parte al tavolo ministeriale volto a dare una traccia maggiormente definita al percorso di chiusura dell'area a caldo. Sentiamo. Premura per la realizzazione di un nuovo accordo di programma con la proprietà salvaguardia totale dei posti di lavoro. Anzi, l'ottimismo di poterli anche incrementare qualora la logistica portuale potesse dare delle risposte sopra le aspettative. Proseguono serrati gli incontri che vedono protagonista la regione. Quest'oggi nuovamente il ministero, l'autorità portuale e il comune riguardo l'iter di chiusura dell'area a caldo della ferriera. Al tavolo tecnico odierno non era presente la proprietà e anzi anche la componente politica era per così dire marginale. A ribadire l'ottimismo per il raggiungimento del proprio obiettivo ci ha pensato l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocci Marro. Oggi era un tavolo tecnico. Parlavano i più dirigenti che i politici. Quindi il ministro Patuanelli, io, il sindaco, l'assessore Pini che non presenti avevamo più una presenza istituzionale ma era un tavolo tecnico, come ho detto, per portare avanti un progetto, un percorso e preparare il terreno affinché poi diventi fertile per per crescere tutte le iniziative che abbiamo in cantiere. Però oggi non c'era la proprietà, non c'erano i sindacati, c'erano solamente gli attori del vecchio corte di programma che ovviamente in virtù della riconversione dell'aria caldo con la chiusura della ferriera, dell'altro forno si dovrà realizzare. Quindi noi andremo a fare un percorso virtuoso che ovviamente in questa regione andrà in questo senso. Prossima tappa dunque un incontro fra la regione e la proprietà da mettere a calendario nei prossimi giorni. volendo procedere, sì con cautela, ma anche senza perdere troppo tempo. La prossima tappa è già prevista, a parte gli incontri che avvengono continuamente, sono un incontro fra la regione e la proprietà del gruppo Arvedi, vedremo con Giovanni Arvedi, ci sarà anche il precedente. Poi ovviamente queste riunioni non si faranno a distanza di mesi nelle istituzioni romane, ma si faranno a distanza di giorni o settimane e quindi questa è un'assicurazione che abbiamo avuto in maniera di non bilattare troppo tempo. E anche il sindaco Roberto Di Piazza, presente appunto a Roma alla riunione che ha avviato il confronto appunto sul futuro dell'area a caldo della ferriera, è intervenuto, scrive come amministrazione comunale, già alla precedente giunta regionale avevamo posto la questione relativamente relativamente allo scenario prevedibile legato ai livelli occupazionali. Come Comune abbiamo confermato che faremo la nostra parte. I grandi interessi internazionali che ci sono sia sul porto di Trieste che per la riconversione di aree come l'ex Aquila, il Sine, l'ex Esso, considerando inoltre le stesse procedure per la bonifica e messa in sicurezza dello stesso stabilimento. Ci consentono, dice il sindaco, un certo ottimismo. Subito scintille alla ripresa dei lavori del Consiglio regionale sulla proposta di referendum presentata dalla Lega per un sistema elettorale di tipo maggioritario. L'opposizione attacca, Fedriga al servizio di Salvini, ma la Lega insiste, basta con gli inciuci. Intanto la Regione Veneto è la prima ad approvare la proposta. Vediamo. In questo nostro flui di Venezia Giulia, l'aula del Consiglio regionale, che avendo una moquette verde, fra le altre cose, diventa il grande pratone di Pontida. È risibile il fatto che il PD venga a protestare dopo che in questo momento stanno occupando il Parlamento di Roma con un'alleanza innaturale con il Mento 5 Stelle dopo che si erano insultati fino all'altro ieri. Ripartenza con polemica per il Consiglio regionale. Al centro la proposta di referendum avanzata dalla Lega per togliere le quote proporzionali nella legge elettorale nazionale. Su richiesta del capogruppo della Lega Mauro Bordin, in apertura l'aula ha approvato la procedura d'urgenza per l'esame della proposta, con 27 voti favorevoli della maggioranza e 19 contrari. Vivaci i proteste da parte dell'opposizione. Ancora una volta ci si dimostra che quello che è la conferenza del capogruppo vale zero, nel senso che l'ultima conferenza del capogruppo sono stati fatti l'ordine dei lavori d'aula e è stata smentita completamente con questo intervento del capogruppo della Lega Bordin che stravolge completamente per far inserire questo referendum, quindi un ordine salviniano che arriva anche in questa terra e Fedriga che diventa il capogruppo in Consiglio regionale del vero Presidente del Friuli Venezia Giulia che è Salvini. Una cosa inaccettabile nei modi e nei contenuti. Semplicemente abbiamo portato avanti una proposta per consentire agli elettori di decidere chi li dovrà governare. L'ora di finirla con gli unciucci di palazzo, con gli accordi post-elettorali, con partiti che sono insultati costantemente durante le elezioni, la giornata dopo si mettono insieme per fare un governo, con tutte le contraddizioni e i problemi che ne derivano. Noi vogliamo dare agli italiani la proposta di decidere chi li governa, chi deve decidere per il loro futuro, per il futuro dei propri figli. Lo vogliamo fare con un sistema elettorale che consente appunto di individuare chi vince e chi perde, in maniera molto semplice. Per questo abbiamo proposto questo referendum, come stanno facendo altre regioni. E in dubbio c'era la posizione di Forza Italia. In aula è intervenuto il capogruppo Nicoli. Dice Forza Italia si distingue ancora una volta per la sua responsabilità per guardare al futuro con le riforme, per essere garanzia dei valori della libertà. Lo ha detto appunto in aula il capogruppo di Forza Italia, Giuseppe Nicoli, intervenendo sulla proposta di referendum abrogativo delle disposizioni sull'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale. Forza Italia appoggia la richiesta che viene dalla Lega, ha spiegato Nicoli, accompagnandola con le assicurazioni contenute nella mozione 110 che abbiamo depositato ieri. Dopo un approfondimento sui contenuti, è aperto e corretto, non abbiamo problemi a sostenere convintamente l'abrogazione dell'attuale sistema elettorale proporzionale. Quindi si va verso un'approvazione. Sopraluogo dell'assessore regionale alla salute Riccardi all'ospedale di Cattinara per seguire l'installazione della nuova apparecchiatura PET. Vediamo. Il programma di installazione della nuova PET all'ospedale di Cattinara procede spedito. Concluse le prove e le verifiche tecniche per le quali ci vorrà ancora qualche settimana, la nuova apparecchiatura sarà al servizio dei cittadini, colmando così l'assenza di un esame, oggi possibile soltanto a Udine e al Cro di Aviano. Lo ha reso noto oggi il vice governatore regionale con delega alla salute Riccardo Riccardi al termine di una visita ai locali nei quali è stato installato il nuovo macchinario. La nuova PET in dotazione alla struttura complessa di medicina nucleare di Cattinara è un sistema integrato PET-CT. Sarà impiegato per ottenere immagini funzionali e anatomiche di diversi distretti corporei acquisite in un'unica procedura. I principali settori di applicazione saranno quelli della diagnostica clinica in ambito oncologico, neurologico, infettivologico, cardiologico, di predisposizione dei piani di trattamento radioterapico. Il sistema potrà essere inoltre impiegato in ambito di ricerca scientifica. Questa strumentazione garantisce elevate prestazioni in termini di sensibilità e risoluzione spaziale ed è in grado di elaborare immagini in modalità 3D e 4D. Dispone infatti di tecnologie di ultima generazione che consente dettagli più accurati e immagini d'alta qualità anche sulle lesioni più piccole. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi. Riprendiamo parlando di un'iniziativa dei gruppi d'opposizione in Consiglio Comunale che hanno presentato una mozione votata all'unanimità dall'Aula che chiede provvedimenti in merito alle nuove tariffe idriche sia per le utenze domestiche che per gli esercenti. Vediamo. Aiutare gli esercenti alle prese con le maxibollette idriche ma anche ristabilire condizioni di equità tra i nuclei familiari più numerosi e quelli composti da una o due persone. Sono gli obiettivi principali della mozione sottoscritta da tutti i gruppi dell'opposizione in Consiglio Comunale e votata all'unanimità dal Consiglio nella seduta di lunedì sera. Alla base dei problemi riscontrati da diversi utenti negli ultimi mesi c'è l'adeguamento imposto a livello nazionale delle tariffe idriche. Feder Consumatori segnala da tempo che molte famiglie triestine, quelle sotto i tre componenti, risulterebbero svantaggiate dalla nuova tariffazione ma l'adeguamento che Acega sta già mettendo in atto in altre parti d'Italia non è ancora in vigore. Di qui la richiesta di sospendere le nuove tariffe. Innanzitutto la possibilità di sospendere l'applicazione della nuova tariffazione che attualmente viene applicata solo ad alcuni utenti, a quelli cioè che comunicano la composizione del proprio nucleo familiare. La mozione intende anche intervenire sul nodo delle megabollette con rincari fino al 300% che molti esercenti triestini hanno cominciato a ricevere l'estate scorsa frutto dell'effetto retroattivo dell'adeguamento delle tariffe. Chiede anche assolutamente di non applicare la nuova tariffazione in maniera retroattiva perché come abbiamo visto anche nei mesi scorsi per le utenze non domestiche tanti esercizi pubblici si sono visti recapitare bollette pesantissime che hanno pesanti conseguenze ovviamente sia su chi lavora in quegli esercizi pubblici sia sui costi per gli utenti. Chiediamo poi che ci si attivi perché venga costituito il comitato degli utenti previsto dalla legge regionale 5 del 2016 e che sarebbe un organo in grado di interloquire su questioni quali il tema della tariffazione. Dopo il presidente dell'autorità portuale d'Agostino è il rettore dell'Università di Lenarda anche Antonio Paoletti interviene sullo sviluppo della città quale presidente di Confcommercio segnala le difficoltà però del comparto e annuncia iniziative nuove. Vediamo. Il momento è magico, il momento importante il momento è di rilancio di Trieste che sta trainando un po' tutta la regione. ci sono più settori in rilancio il trainante è sicuramente il turismo il turismo è un veicolo importantissimo ancora di più è il sviluppo della portualità da una parte la logistica la portualità, la retroportualità nella Venezia Giulia, nell'ambito regionale avremo nei prossimi anni sicuramente dei risultati importantissimi. certamente abbiamo un problema delle attività commerciali le attività commerciali noi dobbiamo confrontarci a darmi impari direi con il commercio online il commercio online non è tassato non paga IVA non ha negozi fisici non ha commessi, non ha magazzini e vende prodotti di diverso tipo certamente è un problema non da poco ma è un problema non si può tornare indietro cerchiamo di trovare degli sbocchi per i nostri commercianti che possano sfruttare la rete ma non ci sarà spazio per tutti per cui stiamo cercando di dare quell'aiuto necessario per riciclarsi e creare nuove attività Una soluzione definitiva o provvisoria che sia per il problema dei frequentatori della piscina acqua marina collassata a luglio non si troverà in tempi brevi l'assessore comunale alle politiche sociali Carlo Grilli lo ha detto oggi in consiglio comunale rivolgendosi proprio ai frequentatori della struttura Grilli ha garantito l'impegno del comune per arrivare a una soluzione condivisa con tutte le parti in causa sentiamo Umberto Bosazzi Piscina acqua marina che fare? Si potrebbe parafrasare Lenin per raccontare la seduta odierna della prima commissione comunale che ha discusso una mozione presentata da Marco Gabrielli lista di piazza di Antonella Grim Italia Viva per sensibilizzare l'assemblea di Palazzo Sipario in merito ad una prima soluzione al problema di tutte quelle persone circa 2000 complessivamente che utilizzavano la struttura collassata a fine luglio per ragioni anche terapeutiche un'emozione non ritenuta urgente e tuttavia come anticipato il consigliere Salvatore Porro Fratelli d'Italia con tutta probabilità sarà portata in consiglio lunedì prossimo l'assessore alle politiche sociali rivolgendosi più ad un gruppo di persone che hanno frequentato acqua marina che ai consiglieri presenti non ha nascosto che i tempi per addivenire ad una soluzione non saranno brevi la piscina terapeutica dava certamente risposte di tipo sanitarie ma anche ludico riabilitative penso a tutti i ragazzi con disabilità e soprattutto con disabilità motoria che trovavano all'interno della piscina terapeutica un momento di sollievo quelle per noi sono un motivo di preoccupazione e ripeto c'è stato un mio impegno e c'è un mio impegno personale a porre una risposta in tempi brevi a quelle che possono essere ripeto però le possibili soluzioni che il territorio offre mia sorella quello che manca di più è un posto dove poter dar libero sfogo a tutta la sua energia io la portavo tre volte alla settimana per lei era una gioia perché gli poteva saltare giocare nuotare ed era l'unico posto dove poterlo fare perché tolta l'estate tolto il mare tolta l'acqua marina non abbiamo più nulla al momento la soluzione che la giunta spinge maggiormente è quella della tensostruttura provvisoria in Portovecchio che non sembra soddisfare tutti anche se alcuni Vassaporopat sottolineano la necessità di valutare già adesso come muoversi in futuro in questo momento gli uffici tecnici stanno lavorando ci sono già state prevenute alcune proposte ci sono evidentemente anche dei canali di finanziamento stanno facendo tutte le valutazioni ma porremmo anche l'attenzione dell'Aula a quelle che saranno le possibili le possibili scelte certo è che i tempi non sono velocissimi per cui anche una struttura temporanea potrebbe rispondere in tempi diciamo relativamente brevi a quello che evidentemente oggi si è manifestato come un bisogno importante di questa città resta comunque un dato sottolineato ancora dall'assessore Grilli l'individuazione eventuale di un nuovo sito o la conferma di quello attuale ipotesi che appare comunque poco praticabile avverranno dopo una serie di consultazioni con tutte le realtà interessate compresi par di capire i frequentatori della struttura presentata ufficialmente Barcolana 51 al Palazzo delle Generali questa mattina la sfida quest'anno dopo il record di presenza raggiunto l'anno scorso è tutta sulla qualità Gianluca Paladin la Barcolana 50 è stata un'emozione straordinaria siamo entrati nel Guinness dei Primati con 2689 iscritti quest'anno puntiamo sulla qualità una qualità difficile da eguagliare quella della Barcolana dell'anno scorso finita nel Guinness dei Primati come la regata più grande del mondo ma il presidente Mitia Jaluz ci crede e vuole viaggiare sulla scia di quei numeri magari superando le aspettative per un'edizione 51 tutta da vivere tantissimi gli eventi in calendario come le tradizionali sfide in mare e il ritorno della nave Amerigo Vespucci sono molte anche le novità ambiente climate change diversity sono i temi protagonisti dell'edizione 51 la vela come metafora del rapporto tra l'uomo e l'ambiente come spazio ideale per l'integrazione di culture e generi diversi saranno al centro del generale Sea Talk e poi il focus su Piazza Unità per la prima volta il cuore di Trieste incarnato nella maestosa piazza diventerà il centro di gravità della Barcolana con uno spazio dedicato al pubblico per vivere in maniera nuova i contenuti dell'evento la piazza si integrerà con il villaggio Barcolana diventando nel punto focale e ospitando l'Info Point a disposizione di tutti avremo nave Vespucci a Trieste avremo la piazza Unità d'Italia per la prima volta utilizzata dalla Barcolana e poi avremo tanta innovazione dall'e-sailing al foiling alla cultura di mare quindi un'edizione veramente molto molto ricca alla quale come sempre invitiamo tutti i triestini tutti i velisti del Friuli Venezia Giulia a partecipare e concludiamo con una notizia curiosa di cronaca una nota a pasticceria di Cortina e d'Ampezzo è stata denunciata da un cliente per aver utilizzato un collante sui parapetti delle proprie terrazze allo scopo di non far avvicinare gli uccelli alla clientela lo rende nota oggi l'associazione 100% animalisti la denuncia è stata presentata ai carabinieri forestali di Cortina il 15 settembre scorso da un turista triestino il quale aveva notato sulla veranda del locale quattro uccellini che sembravano bloccati a una tavola di legno e ha così scoperto la trappola alle sue rimostranze riporta la denuncia il gestore della pasticceria ha risposto sono stufo qua ne vengono 30-40 al giorno dopo aver salvato uno dei volatili il turista lo ha portato da un veterinario che ha riscontrato danni alle penne remiganti e alle zampe del piccolo animale dopo gli accertamenti da parte dei forestali il fascicolo di indagine è stato trasmesso alla procura della Repubblica di Belluno che potrebbe procedere per maltrattamento di animali e in chiusura vi ricordo che domani a Sveglia Trieste ci sarà ospite il segretario della Wilm Antonio Rodà con il quale eventualmente si potrà parlare anche della situazione della ferriera e poi avremo invece a Sveglia in città Roberto Cason consigliere comunale della lista di piazza è tutto per questa edizione grazie per averci seguito e buona serata a Sveglia grazie a tutti